Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in piazza Federico Fellini, per intenderci alla fine di via Blandamura, nei pressi dell'isola ecologica, quartiere solito Corvisea e torniamo sul luogo del delitto perché in numerosissime circostanze abbiamo denunciato quanto accade col calar delle tenebre dalle 19 in poi fino alle 22-23 circa anche di più in cui praticamente in questa zona giovinastri di varia natura si assembrano e ovviamente assumono dei comportamenti in violazione delle normative delle prescrizioni anti-Covid appunto in ambito di assembramento. È una situazione particolarissima, alcuni numerosi cittadini ci hanno sottolineato la questione e noi dopo aver sollevato il problema ritorniamo per così dire a bomba. Sono state fatte ovviamente le segnalazioni alle forze dell'ordine, sono intervenuti vigili urbani, polizia, però evidentemente il risultato non si ottiene perché poi quando si vede che arrivano le forze dell'ordine i giovani si sparpagliano, fuggono via, però una volta scampato il pericolo dopo un po' siamo punto e da capo nel senso che gli assembramenti si verificano come prima e peggio di prima. Bivacchi, assembramenti, soggetti poco raccomandabili, non sappiamo anche se c'è uso di droga, uso di alcol certamente, insomma occorre il pugno duro. Chiariamo una cosa, la democrazia è una cosa bellissima e va rispettata, ogni forma dittatoriale va condannata, però il pugno duro in certi casi occorre, nel senso che le forze dell'ordine, lo dico dalla Polizia Municipale, quindi vigili urbani, polizie di Stato, carabinieri, guardia di finanza, devono completamente riorganizzarsi in maniera, come dire, molto ma molto ma molto più incisiva, andando a braccare questi malfattori, perché stiamo parlando di emergenza Covid, non è un assembramento così innocuo. Guardate la prova provata, resti di ogni genere attestanti il bivacco. Ed ecco ora gli episodi più gravi e vandalici, logicamente riconducibili a questi depravati, distruzione dei vetri della cabina telefonica sita nelle vicinanze e addirittura rottura del vetro di un portone nelle adiacenze. Situazione pericolosissima. A questo punto bisogna stanare questa gente e non intervenire soltanto quando c'è la segnalazione. Visto che si sa che puntualmente accade questa situazione, si verificano queste situazioni, allora bisogna intervenire. Intervenire ripetutamente, cioè sistematicamente, in queste fasce orarie, presentarsi e, come dire, prenderli alla sprovvista. È l'unico modo. La gente è esasperata. Noi ci troviamo in uno stato di diritto, si usa il pugno duro nei confronti dei bar, dei ristoratori, se si sgarra di un minuto, se si trova il barrista o il ristoratore con la mascherina poco poco abbassata. Si prendono provvedimenti previsti dalla legge, anche duri, drastici. Però qui non vorremmo che ci fosse una sorta di impunità. Non perché le forze dell'ordine, per carità, non vogliano, come dire, perseguire i responsabili, ma perché evidentemente l'organizzazione non è all'altezza e quindi questi malfattori, perché così vanno etichettati, la fanno franca. E allora noi lo stiamo dicendo in tutti i modi, in tutte le lingue, se esiste uno stato di diritto, che le forze dell'ordine sappiano fare il loro mestiere. Massimo rispetto per quello che fanno e fanno tanto, però in questo caso qui ci sono dei risultati assolutamente scadenti. Io non mollo la presa. Da Piazza Federico Fellini, Taranto è tutto. Alla prossima! Ciao!